Oggi, a Chiavenna, in Diocesi di Como, viene beatificata Sor Maria Laura Mainetti, delle Figlie della Croce, uccisa ventun'anni fa da tre ragazze influenzate da una setta satanica, la crudeltà. Proprio lei, che amava i giovani più di ogni cosa, e ha amato e perdonato quelle stesse ragazze prigioniere del male, Sor Maria Laura ci lascia il suo programma di vita, fare ogni piccola cosa con fede, amore e entusiasmo. Che il Signore ci dia a tutti noi a fede, amore e entusiasmo. Un applauso alla nuova Beata. Grazie.